A The Circle possiamo sapere tutto, dati biometrici, riconoscimento facciale. Dove finiscono quei dati? Vuoi vedere una cosa? Tutto viene conservato, analizzato. Possono usarlo come meglio credono. May, c'è qualcosa che ci vuoi dire? Non puoi fidarti di nessuno. Sono le cose che nascondiamo che ci mettono in pericolo. Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega. Voglio la verità. The Circle. Dal 27 aprile al cinema.